che caffone ce l'hai con me? le guari sei tu? e si vado po' barba? no, c'hai l'acqua nelle scarpe con la conferenza stampa siamo andati a pranzo intanto il caso è chiuso si, infatti infatti te l'ho già detto, non possiamo salvare tutti ciao ti ritengo direttamente responsabile dell'indagine di mia nipote se ne succede qualcosa ti faccio il culo di chi stai parlando? non c'è nessuno qui a parte di lui ti odio quando fai così vieni a? andiamo mia nipote invece è abbastanza apprezzabile anche se è totalmente inaffidabile me ne sono accorta tutto bene? si a me abbiamo lavorato qui tutta la notte che onore te lo dico così non pensi che abbia dormito da Marinella perché dovrei pensarlo? avrei ascoltato la nostra conversazione non c'è nessuno qui sta non c'è nessuno qui è arrivato non c'è nessuno qui è arrivato Stai preoccupando questa media Oh, no, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.